E' già operativa a Sambuca di Sicilia la nuova rete pubblica di telecomunicazioni a banda ultralarga. Open Fiber ha concluso i lavori di realizzazione dell'infrastruttura di rete che consente a cittadini, imprese e professionisti del comune in provincia di Agrigento di accedere ad internet con prestazioni efficaci e all'avanguardia. L'intervento si è in particolare concentrato sulle zone meno densamente popolate e finora sprovviste di connettività ultraveloce. La rete ultraveloce oggi disponibile a Sambuca di Sicilia raggiunge 3.435 unità immobiliari attraverso la tecnologia FTTH Fiber to the Home, la fibra ottica stesa fino all'interno degli edifici, unica soluzione in grado di garantire velocità di connessione a un gigabyte al secondo e anche oltre. Tra gli edifici coperti ci sono l'asilo nido di Via Stazione, la scuola materna a Porti, la scuola materna Maria Montessori, la scuola elementare Antonio Gramsci, l'istituto comprensivo Fra Felice da Sambuca, il poliambulatorio, la biblioteca comunale Vincenzo Navarro, l'aula consigliare, gli uffici comunali, gli uffici del consorzio di bonifica 3, la sede del centro per l'impiego, i locali del depuratore comunale, il teatro comunale Lidea, la pinacoteca, il museo archeologico, il comando di polizia municipale, il distaccamento forestale, la caserma dei carabinieri e l'isola ecologica. Si tratta di un investimento strategico per la digitalizzazione del territorio che non grava sul bilancio del comune. L'infrastruttura tecnologica infatti è stata finanziata con fondi regionali e statali nell'ambito del piano banda ultralarga BUL gestito da Infratel Italia, società del Ministero delle Imprese del Made in Italy con il coordinamento della regione siciliana. Molto ridotto l'impatto per la posa della fibra grazie a tecniche di scavo innovative e sostenibili che consentono ad Open Fiber di riutilizzare infrastrutture esistenti. Grazie alla rete FTTH e al progetto di cablaggio di Open Fiber, Sambuca di Sicilia si dota ad una rete ultra broadband in grado di erogare volumi di traffico dati sempre maggiori, consentendo di fare un uso veloce e abilitante dei collegamenti per lo smart working, lo streaming dei contenuti in HD, gli acquisti online e l'accesso ai servizi da remoto della pubblica amministrazione, spiega Filippo Cavoli, field manager dell'azienda guidata dall'amministratore delegato Giuseppe Gola.